Salve amici! Le prigioni più inaccessibili del mondo, come la famosa Alcatraz, il castello Diff sulle coste di Marsiglia o Robben Island, dove è stato 28 anni Nelson Mandela, si trovano sulle isole. Ora sono mete turistiche o dei musei. Ma ad oggi ci sono ancora alcune prigioni da cui non si può evadere. La prigione di Port Leach. Questa prigione si trova nella contea irlandese di Leach ed è stata costruita negli anni 30 del 1800, il che la rende una delle prigioni irlandesi più antiche. Oggi chi viola il comma 30 della legge sui crimini contro lo Stato deve essere mandato qui. Per questo a Port Leach sono detenuti in particolare i criminali condannati in quanto membri dell'Ira o di altre organizzazioni terroristiche o illegali e i dissidenti repubblicani. Viene sorvegliata di continuo dall'esercito irlandese il drappello, formato da circa un plotone di militari armati di fucili e di mitragliatrici antiaeree, pattuglia tutto il complesso. Lungo il perimetro sono state erette alte mura, fornite di camere di tracciamento e sensori di movimento. La prigione può ospitare 399 detenuti, ma ci sono solo circa 120 prigionieri. Tali misure sono state introdotte diversi decenni fa, poiché in precedenza, soprattutto negli anni 70-80, a Port Leach sono state registrate tante evasioni, rivolte e addirittura un attacco da parte dell'Ira. Il regime carcerario si indurì, al punto che nell'84 Tom Hoare, l'assistente del segretario generale dell'Associazione degli Ufficiali Carcerari, criticò aspramente le condizioni nella prigione. Criticò anche William Raley, l'allora dirigente della prigione, e il ministro della giustizia Michael Noonan, accusandoli di negligenza e indifferenza verso le lamentele dei detenuti. Alla conferenza dell'Associazione degli Ufficiali Carcerari dell'84, il delegato di Port Leach, Larry O'Neill, disse che se Hitler stesse cercando oggi dei generali, li troverebbe a Port Leach. Dopo la guerra, molti nazisti hanno affermato di aver fatto solo il proprio dovere, proprio quello che dicono oggi le nostre guardie carcerarie. Le condizioni sono migliorate dopo che Lonergan ha mandato via Raley, ma non per molto. Nel maggio 2007, il detenuto John Daly, condannato a nove anni per furto armato, è riuscito a finire in una diretta di un programma radio, parlando diversi minuti prima che le guardie riuscissero a togliergli il telefono. Questo incidente ha provocato una nuova ondata di misure repressive non solo a Port Leach, ma in tutte le prigioni irlandesi. Sono stati sequestrati 1300 oggetti di contrabbando, tra cui telefoni cellulari, televisori al plasma e addirittura un pappagallo. Questa bravata ovviamente non consentì a John Daly di farsi nuovi amici. Veniva minacciato in continuazione dai compagni di cella, per questo due volte è stato trasferito in altre prigioni, ma nessuno ha mai più sentito parlare di evasioni da Port Leach. Santé. La Francia, di norma, è considerata un paese con un sistema carcerario sviluppato e con antiche tradizioni in questo ambito. Le prigioni francesi sono state considerate a lungo dei modelli non solo in Europa, ma in tutto il mondo. La prigione di Santé, che vuol dire salute, si trova a sud della capitale francese, nel distretto di Montparnasse. È una delle più antiche in Francia e in essa sono tornati in salute migliaia di francesi e di ospiti del paese. Venne costruita nel 1867, secondo il progetto del famoso architetto Emilia Vaudremer, durante il Secondo Impero. All'epoca, la Francia era governata dall'imperatore Napoleone III, che lottava duramente contro gli odiati repubblicani. Aveva così tanti nemici politici che 45 prigioni non riuscivano a contenere i 25.000 detenuti. Per questo furono costruite altre 15 prigioni in tutta la Francia. Per risparmiare, avevano grandi camerate in comune, che potevano ospitare 100-150 detenuti. Ma per Santé fu fatta un'eccezione, costruendola secondo il solito schema. Questo perché serviva per i detenuti più pericolosi. Nella prigione di Santé c'erano 1400 piccole camere da quattro detenuti ognuna. L'edificio aveva la forma di un trapezio e al centro si trovava il cortile per l'ora d'aria. Questo tipo di regime carcerario veniva chiamato della Pennsylvania, poiché i primi istituti carcerari del genere sono comparsi negli Stati Uniti. Eppure ogni tanto capitavano delle evasioni. Nel 1960 il regista francese Jean Becker girò il film Il Buco, su un'evasione dalla prigione di Santé. Nel film, basato su una storia vera, ha recitato addirittura uno degli evasi dalla prigione nel 1947. Nel 78 da qui è evaso il ladro Jacques Meren, vestendosi come una guardia e scavalcando il muro. Nell'86 la moglie venne a prendere Michel Vaujour proprio sul tetto della prigione, in elicottero. Anche su questa storia è stato girato un film intitolato My Greatest Escape, in cui Beatrice Dahl interpreta la moglie del detenuto. Nel 2002 è riuscito a evadere il membro dell'ETA Ismael Escudero. Durante una visita si è cambiato i vestiti con il fratello minore e, siccome sono identici, è riuscito ad abbandonare la struttura in tranquillità. Le guardie se ne resero conto solo cinque giorni dopo. Nel 2019 è stata conclusa la ristrutturazione e la modernizzazione della prigione. Ora, evasioni così sono diventate impossibili, ma la planimetria iniziale è stata completamente conservata. Al centro si trova la rotonda dalla quale la guardia può guardare tutti i corridoi, restando nascosta. La nuova attrezzatura diminuirà il movimento in tutta la prigione. Inoltre, sono stati installati dei silenziatori della linea telefonica mobile, elaborati secondo le tecnologie più innovative. All'interno tutto è subordinato alla necessità di sicurezza. Il posto di guardia centrale registra tutti gli ingressi e le uscite e anche il direttore del carcere è obbligato a segnalarsi. Durante ogni spostamento, il detenuto viene perquisito e deve passare attraverso un metal detector. Tutte le guardie sono obbligate a indossare giubbotti di difesa. Le 15 celle di isolamento, così come tutte le altre, splendevano dopo la ristrutturazione. In esse si trovano letti, doccia, fornello, frigorifero, telefono fisso e alle finestre delle robuste inferriate. Le porte possono essere aperte sia dall'interno che dall'esterno e sono accessoriate con manette speciali e con un chiavistello usato nei casi di pericolo. Ci sono 450 guardie e finora non sono state registrate evasioni. La prigione Futiu. Mentre le civiltà occidentali puntano sulle barriere fisiche e su costruzioni materiali di massimo isolamento, in Asia, ritengono che chi non vuole evadere non ha bisogno di mura. Il desiderio non interessa a chi ne è rimasto senza. Per questo in Giappone funziona uno dei sistemi carcerari più duri del mondo, ma non nel senso che immaginate. Qui le persone vengono educate a tutta una serie di rituali, leggi e intimazioni, a volte senza senso, ma obbligatori. Così nella prigione di Futiu, nella periferia di Tokyo, considerata una delle più dure, i detenuti non possono guardare negli occhi le guardie, spalancare gli occhi in mensa prima di iniziare a mangiare, girarsi l'uno verso l'altro o guardare di lato durante la marcia verso il luogo di lavoro. Tutto è regolamentato, dalle passeggiate alle procedure igieniche. E se un detenuto si fa lo shampoo il giorno in cui invece doveva farsi solo la doccia, lo attende la cella di isolamento. Se si rivolge al sorvegliante senza dire signor direttore, lo attende la stessa sorte. Se commette errori durante il rituale Kankan Odori, una procedura durante la quale deve alzare le mani e le braccia in un determinato modo durante la perquisizione, tirare fuori la lingua e altro, deve rifare tutto da capo. La prigione a Futiu è stata aperta nel 1935, dopo che l'imponente terremoto di Kanto ha distrutto la prigione principale di Tokyo, Sugamo. Prima della guerra, nella prigione venivano rinchiusi i prigionieri politici. Dopo il conflitto mondiale, i leader comunisti, i membri delle sette religiose vietate e i leader del movimento coreano per l'indipendenza. Oggi è una delle prigioni più grandi del Giappone. Può ospitare 2000 detenuti, occupa una superficie di 23 ettari ed è circondata da mura alte 5,5 metri. Il complesso è diviso in quattro blocchi. Detenuti normali, stranieri, malati psichici e detenuti con invalidità o traumi. La situazione qui non è paragonabile alle condizioni bestiali di una prigione indiana o peruviana. C'è silenzio, ordine, igiene. Tutto è molto pulito, quasi sterile. Disordini e violenza non sono accettati. Ci sono tutti i comfort, mobili e una biblioteca. A dire il vero, della persona resta poco, ma è proprio questa l'idea principale. La prigione deve diventare un'espiazione per il detenuto e scacciare per sempre il desiderio di violare la legge. Il numero di evasioni da FUTU è pari a zero e il Giappone occupa uno degli ultimi posti al mondo per il numero di detenuti, appena 40 ogni 100.000 abitanti. La prigione ADX Florence La prigione correttiva a duro regime di esecuzione delle pene a Florence, in Colorado, è il modello di ciò che viene chiamato prigione di massima sicurezza. È famosa come la Alcatraz delle montagne. Il motivo della costruzione di questa prigione è stata l'aggressione da parte di due detenuti del carcere di Marion, Illinois, alle guardie di scorta il 22 ottobre 1983. Il governo federale ha deciso che era necessario un nuovo tipo di prigioni, con un regime più duro, dove i detenuti fossero pienamente isolati non solo dal mondo esterno, ma anche tra loro e dalle guardie. Oggi ADX Florence ospita circa 430 criminali. La maggior parte passa 23 ore al giorno in celle singole di due metri per quattro, dietro a porte d'acciaio e sbarre. La situazione nelle celle è simile a una caserma e a un HIG scandinavo, dal quale sono state portate via tutte le comodità ed è stata lasciata solo una laconicità spartana. Quasi tutto è fatto di cemento fuso, anche i mobili. I gabinetti si bloccano se c'è una minima otturazione. Le docce sono a tempo e il lavandino non ha il rubinetto. Chissà cosa potrebbe farsene un detenuto inferocito dalla solitudine. Gli specchi sono di acciaio lucidato e anche le finestre, avvitate con dei bulloni al muro, sono progettate in modo tale che il detenuto veda solo un pezzetto di cielo e il tetto. Così non può definire la sua posizione in galera. I telefoni, internet e tutte le telecomunicazioni ovviamente sono vietati. Tutto il perimetro è pieno di sensori di movimento e camere che controllano l'apertura e la chiusura delle porte di acciaio. E il recinto, alto 3,7 metri, è ricoperto di concertina, filo spinato modellato, che forse avete visto in centinaia di film di guerra. E in qualità di bonus, a spese dell'istituto, ci sono le luci laser e i cani da combattimento, che controllano lo spazio tra il filo metallico e le mura. L'unica ora libera la si può trascorrere in camere separate o in una piscina vuota. Durante quest'ora non è consentito parlare. L'unico interlocutore accessibile è il carceriere, ma di norma non è molto incline a scambiare due chiacchiere. I visitatori sono ammessi ma solo attraverso il vetro e in una camera separata. L'ex direttore la definiva una versione più pulita dell'inferno. Qui scompare ogni forma di protesta. Richard Reed, famoso come shoe bomber, ha tentato di far scoppiare una bomba portata a bordo di un aereo in una scarpa. Nel 2009 ha dichiarato lo sciopero della fame, ma le guardie hanno trovato il modo di farlo mangiare. Queste misure non sono destinate ovviamente a piccoli ladruncoli. A ADX Florence si trovano i criminali più pericolosi degli Stati Uniti. Per questo la nuova Alcatraz è diventata un punto di non ritorno anche per le teste più temerarie. Con questo è tutto amici. Lasciate un like se il video è stato interessante, scrivete un commento e a presto!